In questa videoguida, vedremo alcuni consigli, per scegliere i migliori zerbini esterni. Molti sottovalutano che lo zerbino sia il biglietto da visita della propria abitazione, è il primo oggetto che viene visto prima che un conoscente possa accedere al vostro appartamento. Per quanto la scelta del tappetino da posizionare all'esterno di una casa o di un ufficio possa apparire come un'azione dozzinale è bene considerare alcune accortezze prima dell'acquisto. Se posizioniamo il nostro zerbino all'esterno, nel caso di un'abitazione indipendente o di una struttura lavorativa, sarà necessario optare per un tappetino antiscivolo e impermeabile se la struttura non ha punti di riparo dalla pioggia. Il materiale usato dalle case produttrici sono il brush mat, ovvero fili di nylon con una base di plastica, oppure in turf mat e quest'ultimo facilmente lavabile. Gli zerbini indoor presentano una struttura a moquette facilmente spazzolabili. Per la pulizia degli zerbini, soprattutto quelli da esterno di grandi dimensioni, al fine di ottenere la massima pulizia, si può spargere del sale grosso e usare una spazzola di grosse dimensioni bagnata con un acqua e aceto. Molte case produttrici danno la possibilità di acquistare zerbini personalizzati, una scelta adatta per chi vuole rendere particolare e unica l'entrata della propria casa.